E allora ragazzi, portiamo a casa i tre punti ad Udine e adesso testa alla Champions, dove poi in trasferta in Francia affronteremo il Lille. E quindi parlando oggi della partita, un primo tempo che mi è letteralmente piaciuto con la Juve che continuava ad attaccare e quando poi Turam ha fatto quel gol, ma poi non era il suo primo gol in maglia ufficiale, in casa bianconera, poi ha tirato, poi il pallone ha colpito il palo. Poi per deviazione l'ha toccata Okoye, infatti l'ha deviata lui ed è quindi stato autogol. Però aspetterei con molta pazienza di vedere Carpenturam segnare singolarmente il suo primo gol. E poi il 2-0, anche quello è stato perfetto, con una rasoiata da parte del giovane valdostano Nicolo Savone, che ha scagliato una rasoiata dove Okoye non può farci nulla. E quindi abbiamo gestito molto bene, bravo anche Tiago Motta a dover prendere stavolta in mano la situazione e quindi l'ha preparata molto bene questa partita. Oggi ad Udine, come abbiamo fatto questa sera, si doveva vincere e noi l'abbiamo fatto portando a casa il risultato positivo. E adesso, ora, poi dopo vi parleremo della prossima che avremo in campionato e anche quella che vi ho detto prima. Nel secondo tempo, sì, un po' meglio, diciamo che qualcosa si dovrà migliorare, perché ancora adesso Tiago Motta, avendo fatti i cambi, avendo cambiato i terzini, e poi Danilo che è entrato a partita in corso nei minuti finali e quindi ha giocato come terzino destro, Cabal a sinistra, Caluno Gatti, come il solito, dal primo minuto che non li ha persino toccati. E poi sono entrati anche Mangulà, non essendoci ancora un vice Vlaovic, per cui ha dovuto spostare Ildiz a fare la punta. Ma poi sul mercato vedremo poi di cercare un vice Vlaovic e un sostituto di Bremere, che, ve lo dico io, a mio parere mi accontenterei di uno Skriniar. Mi accontenterei di Skriniar e vederlo ritornare nel nostro campionato di Serie A, e come sostituto di Bremere ci può stare. E quindi, quindi nel secondo tempo è andato comunque un po' meglio, e poi il gol è subito, per ora non ne abbiamo presi. Poi a parte uno che è stato annullato dall'Udinese per farlo in attacco, è stata una decisione corretta, perché il centravanti dell'Udinese, Davis, stava salendo, e Di Gregorio che usciva, e quel pasticcio che c'è stato in difesa, poi ha visto tutto l'arbitro, poi ha fermato tutto, e poi l'ho sentito fischiare. È stata una decisione corretta, quella di annullare la rete per farlo in attacco. E ora adesso Tiagomotta ha dovuto fare questi cambi qua, perché poi deve farle riposare, quella trasferta in Francia con Lille, quella che avremo settimana prossima. E la prossima in campionato ci gusteremo il derby della Mole contro il Torino. E quando ho visto quella prossima partita lì, stavo pensando se vedermela allo stadio, oppure normalmente qui a casa. Però mi dovrò prendere un po' tempo per decidere cosa fare. Comunque ragazzi, sono felice che abbiamo portato a casa i tre punti, e quindi siamo felici anche e soprattutto della vittoria. Continuiamo così e poi non vi venite a dire che abbiamo vinto con l'Udinese contro le più piccole, vinciamo con le più grandi, facciamo un po' fatica. Vabbè, io su questo discorso non ci torno. Quindi, tre punti conquistati ad Udine, e se il video è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, qua lo spese è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video e a tra poco con un nuovo episodio con la carriera natura e col Palermo su FC25. E quindi, ci vediamo al prossimo video e alla prossima!